guardate, questo è lunedì, buon lunedì dell'angelo a tutti, buona pasquetta a tutti sono al mare e naturalmente è questo il mare, è questo il tempo ieri ha diluviato tutto il giorno, proprio tutto il giorno è diluviato, non si è fermato quasi niente ormai non si fermava per un'ora, mezz'ora, poi ricominciava a piovere e oggi 18 aprile 2022 la situation è questa quindi il mare è mosso, le nuvole non mancano, però non piove c'è freschino e questa è la situation il mare naturalmente, la spiaggia è ancora sporca perché la stagione è cominciata e poi con questo tempaccio, così, e questa è la situazione questa è la situazione situazione